E ragazzi, come va? Io sono Periniki E io sono Stef E questo è GioGioKerma The Sims 4 E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Anna Gamer, Stefano, Maria Luna, Duccio, Master9933 e Aurora Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E siamo tornati qua su The Sims Oggi, come ben sapete, dedicheremo l'intero episodio a Lia La tripletto, l'abbiamo chiamata così? No, l'hai chiamata così, a me non piace È bellissimo, ovvero la giornata di Lia Quindi cosa andremo a fare? Andremo a vedere Lia a lavoro per il suo primo giorno di lavoro Andremo a sistemare la sua stanza e ovviamente anche quella di Giulia Perché sono unite, sono insieme E infine andremo a creare E infine andremo a creare i club di Lia Che sarà davvero fantastico Sono felicissima del club Non vedo l'ora di farlo vedere perché secondo me sarà adattissimo a Lia Che vuole piacere a chiunque Allora, prima di iniziare ho fatto delle piccole modifiche Anche alle altre stanze perché c'erano delle cose che non mi convincevano Ad esempio il pavimento della stanza di Tina Secondo me ogni volta che guardavi la stanza ti bruciava gli occhi Ti veniva mal di testa, vero? Ma proprio bruciava gli occhi tutto quel fucsia Quindi ho optato per un rosa un po' più soft Ok, è carino, mi piace, è un po' più elegante, un po' più sobrio Comunque sta benissimo con il letto Non dà troppo fastidio col fucsia delle pareti Questo volevo dire E anche secondo me sta benissimo con il letto Ovviamente quella di Beatrice è rimasta uguale perché è un capolavoro Dopodiché hai fatto delle modifiche da queste parti Sì, esatto Ho messo, ho cambiato, guarda, i pavimenti in tutte le stanze Perché in queste due stanze, se vi ricordate C'era quello nero Avevamo lasciato il pavimento nero Alla fine, guardando nell'insieme la casa Non ci piaceva lasciare queste due stanze così Mi piace, mi piace, hai fatto un buon lavoro Sono soddisfatto, ma direi che è ora di andare da Lia Perché è la sua giornata e non possiamo perdere troppo tempo con altro No, 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 poverina ci rimane male Le abbiamo promesso Le abbiamo detto che oggi, questa giornata, sarebbe stata Guarda com'è felice Tutto per lei, quindi iniziamo subito Andiamo nella stanza di Giulia e di Lia Esattamente Questa volta abbiamo già preparato le stanze Semplicemente perché, visto che il gioco ci limitava un pochettino per le scelte degli oggetti Abbiamo deciso di usare qualche piccola mod per aggiungere qualcosina Giunta qualcosina di estetica, non ho esagerato E quindi per evitare di riscontrare qualche bug mentre preparavamo la stanza Abbiamo già fatto Quindi vi facciamo una bella presentazione Sono davvero bellissime Non vedo allora, ti giuro sono emozionata Penso di aver fatto un capolavoro anche con queste due stanze Con l'inquadratura voglio farne vedere solo una Aspetta, lo dico con tanta modestia Ok Penso di aver fatto proprio un capolavoro Ormai ogni volta dici così Cos'è? Che le cavie con me parlano Io capisco i loro bisogni Quindi so fare delle stanze perfette per loro Iniziamo subito con quella di Lia Anzi, facciamo prima quella di Giulia, ti prego Ma ormai si vede questa Dai, dobbiamo fare prima questa Facciamo prima quella di Lia Ok Quella di Giulia è più bella Allora, allora Ti spiego Ok Lia ha chiesto un tipo di arredamento un po' diciamo bambinesco Chiamiamola perché non voglio dire infantilesco Non è un po' bambinesco Ho cercato di accontentarla al meglio Allora, io voglio dire prima di tutto Che i muri sono bellissimi Cioè io questa cosa la vorrei in casa Ha voluto questa carta da parati Perché le ricorda l'erba del suo pianeta Che appunto era viola Esatto, infatti stavo notando proprio che l'erba mi ricorda tantissimo il pianeta degli alieni Quindi sicuramente non E queste sono tutte le impronte dei familiari? No, sono farfalline Sono farfalle? Sì, sono farfalle Stai scherzando? No, sono farfalle Pensavo che fossero impronta di piede Sono le farfalle Io non ci credo però che mi fai queste cose Scusa, io ho la presentazione Dimmi che non sono impronte Ho la presentazione carinissima di tutte le stanze Ho tutto in testa e tu mi interrompi dicendo che sono impronte Come fai a pensare che siano impronte? Non lo so, mi sembravano impronte Sei uno scienziato terribile, ti licenzio Uffa Allora Questo è un unicorno, giusto? Così non rischiamo più Ti senti un attimo Ok Allora L'erba viola è l'erba del suo pianeta Ti ricordi quando siamo andati in un pianeta alieno Sì, mi ricordo benissimo Con l'altra però serie di The Sims Esatto E quelle sono le farfalline del suo pianeta Ok Questo è un pupazzo che le ricorda gli animali che abitano il pianeta Vedi, ci sono gli unicorni nei pianeta alieni Non è vero ma me lo sono appena inventato Ma è un po' beso come un unicorno È un po' strano Non Giulia No, non andiamo avanti Andiamo avanti Poi qua qui cos'è questa cosa, scusami Ah, questa è una cosa molto importante Ok È collegata alla stanza di Giulia Perché poi nella sua stanza vedremo che lei ha una collezione di nani Nani Di nani Ok Allora, vuoi criticare le collezioni delle persone? Non critico niente nessuno ormai, mi sono abituato È praticamente questo è un nano alieno che Giulia ha regalato a Lia Ok Secondo me sai perché gliel'ha regalato Perché ha capito che è un alieno Perché secondo me l'ha capito Giulia Giulia è abbastanza sveglia secondo me E poi ci dorme quindi Il problema è che Lia ha accettato questo regalo Senza però rendersi conto del significato E adesso è convinta che sono amiche Quando secondo me Ah Io la vedo un po' difficile Potrebbe rimanere molto delusa È stata molto felice Lia di questo regalo Guarda stava per piangere dalla felicità Poverina Queste ovviamente sono candele aliene anche quelle Sì ho deciso che sono aliene Queste sì, questa è vera, è bella, è bella E guarda i cristalli, quelli sono cristalli del suo pianeta Giusto, giusto Per gli rarissimi Comunque Magari Giulia li ruba e li vende Giulia ha delle cose strane in camera Lo sappiamo, lo sappiamo E ovviamente come ultima cosa Le ho messo anche uno specchio con un microfono Così Lia si può allenare a dire tutte le barzellette che vuole Dato che ben sappiamo che lei vuole essere il più simpatica possibile con tutti Esattamente Quindi qua si potrà allenare come vuole A me è stato detto che le nostre cavie vogliono organizzare una giornata Dove ognuno fa diciamo lo spettacolo con quello che sa fare Perché siccome fanno dei lavori che non gli piacciono Vogliono fare una specie di festival, capito? In casa Ma che te l'ha detta questa cosa? Beh me l'hanno detta Vedi tu dici che parli con le cavie ma in realtà le cose più belle le dicono Beh mi dispiace Nei commenti te l'hanno detta? No 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 Te lo giuro che me l'hanno detta le cavie Non è vero Ad esempio Lia vuole fare uno spettacolo di barzellette Luca vuole fare un intero concerto soprattutto dedicandolo a Tina Alcune canzoni dedicate a Tina Crack ovviamente vuole fare una cena stellare E ci sono tutti che stanno preparando delle cose Potrebbe essere una cosa bellissima La prossima volta organizziamo un evento in cui ognuno darà sfoggio Si chiama festival È un festival Sì 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 è proprio un festival Ognuno di loro darà sfoggio delle proprie abilità E quindi Lia si sta allenando In tutto c'è Lia che È scioccata È scioccata da questo Allora facciamo vedere prima i nani Ok allora Ovviamente c'è il nano cleptomane Vedi che sta rubando Sta rubando Sì una valigetta di soldi Rispecchia molto Giulia Rispecchia tantissimo Non si è mai vista ragazzi Ma Giulia ogni volta che va a lavoro in ospedale Ruba qualcosa Ci compare in alto a destra Spesso e volentieri Ruba di tutto Qualsiasi tipo di cose Diciamo che Ogni volta torna con l'inventario pieno Cioè con tutto e di più Davvero ruba tantissime cose Il nano mietitore Ovviamente anche questo un po' macabro Un po' Guarda gli occhi A Giulia piace Stai ipnotizzando a Lia Guarda A Giulia piace E poi c'è un altro nel comodino a fianco al letto Se lo fai vedere Dov'è? Eccolo Il nano fantasma Molto allegro Questo è dedicato al fantasma pagliaccio no? Facciamo notare Una bellissima pianta morta Per mettere allegria nella stanza Sì esatto Delle candele sulla scrivania Che come possono mancare Davvero c'è È inquietante No guarda il pavimento E fai vedere anche il colore delle pareti Devi girarti perché Ecco Eccole qua Fai vedere bene la stanza È molto gotica Perché penso che questo stile Si addica davvero a Giulia E qua cosa abbiamo? Questo è dove nasconde le cose che ruba Tutte le cose che ruba Sono qua dentro Quindi c'è un vero e proprio tesoro Sì esatto E si può aprire? Lasciamolo chiuso Il letto ovviamente Stile gotico Comodino uguale Altre candele Altre candele Io sto guardando questa cosa Ti piace? Ti piace? Non piace un sacco Lo vorrei qui dietro No Lo vorrei anche io No grazie È un tavolino È un tavolino con dei testi Molto bello Vedi questo Questa è una cosa che abbiamo messo con le mod Perché secondo me È perfetta per Giulia Ci sta benissimo Ovviamente E infine abbiamo due quadri Un quadro gotico Ok E questo è il suo film horror preferito Eh non mi sorprende che le piacciono gli horror Cos'è? Una motosega quella vero? Sì è tipo Allora aveva anche un titolo questo quadro Ma non me lo ricordo Diciamo che era il film Il film Non aprite quella porta Ce l'è presente Ok Si capiva Chiamalo così Si capiva che il titolo ricorda Va bene? Ti piace? Sto per usare la motosega Contro di te Ma aspettila Te lo dico E finalmente siamo pronti a creare il club di Lia E questo è un momento importantissimo Bellissimo Ci avete scritto Che cavolo fa quel tipo? Che succede? Non so come l'ho visto ma che cosa sta facendo Ma che ci fa qui davanti? Vabbè lasciamolo perdere Vabbè come sta camminando Vabbè 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 Sì perché? Perché si sta per fare la pipì addosso Oh no Per quello che cammina E perché non corre allora? Almeno arriva prima a casa Perché se la farebbe addosso Capito? Vabbè continuiamo Dicevamo ci avete scritto tantissimi consigli Tantissimi commenti Per consigliarci appunto il nome del club Su che cosa farlo Sul tema di come farlo E abbiamo deciso di premiare il commento Che più rispecchia la personità di Lia Perché molti di voi Si sono dimenticati che Lia Sì è un'aliena Ma il suo obiettivo è quello di conquistare Diciamo L'amicizia di tutte le persone del mondo Dell'umanità Perché appunto vive Sì è dato molti commenti Infatti vorrei specificare Dicevano di metterla insieme ad altri alieni Esatto Dunque lei arriva da un pianeta alieno Ma preferirebbe fare amicizia con tutti Cioè lei è arrivata qui nella terra Appunto per essere Per integrarsi Per conoscere nuove persone Cose che magari non ci sono nel suo pianeta Quindi lei vorrebbe appunto un club In cui chiunque può essere amico di chiunque Esattamente infatti abbiamo preso ispirazione Dal commento di Magic Simmer Che ringraziamo tantissimo Abbiamo giusto fatto qualche modifica Però ci ha scritto davvero Un commento super dettagliato Che abbiamo apprezzato tantissimo Facciamo vedere il club Allora si chiama L'amicizia Petalosa Che è un nome fantastico L'ha scelto lui Io vorrei specificare Che non avrei mai Rinominato un club Con un nome del genere Lì è felicissima di questo nome Ok Perché Petalosa è un termine Che non sopporto Io lo dico Lo dico Non avrei mai dato questo nome Quindi se qualcuno non piace Una persona malvagia come te Non può apprezzare un termine così petaloso Non ci provare Quindi no Vorrei specificare Che se il nome non piace L'ho scelto lui Quindi ti do chiaramente le colpe La responsabilità Va bene Me la prendo tutta Poi una cosa molto interessante È che ci ha suggerito Magic Simmer Di mettere Beatrice nel club Perché secondo lui Loro due sono due personalità Abbastanza simili E diciamo Mettendoli nel stesso club Potrebbero diventare migliori amiche E quindi questa è una cosa interessante Se è quello che cerchi un club Dove anche gli adulti Possono tornare bambini E dove l'amicizia regna In contrastrata Se nel posto giusto Tutti sono ben accetti Adulti Bambini Anziani Cani Gatti Federico Alien Intendiamo proprio tutti Ok Poverino Federico Questa descrizione l'ho adorata L'ho adorata Come requisiti Infatti abbiamo messo Etta ma guardate Ci sono tutte Adolescente Giovane Adulto Bambino Anziano Adulto E come tratti abbiamo messo Infantile Buono Buffo Amicone E allegro Niente persone scontrose Niente persone maleducate Niente Giulia Esatto Già se la deve sopportare a fianco Nella stanza Poverina Almeno diamole un club Dove si può sentire a proprio Con me con Cina Abbiamo messo un arcobaleno Perché ragazzi È davvero troppo bello Ci sta troppo bene Per diciamo Simboleggiare l'amore La pace La felicità E l'amicizia E poi come attività del club Abbiamo messo Allora Gioca nello stanzino Che credo che sia Quando i bambini Si nascondono Nell'armadio Sì 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 Poi abbiamo Abbraccia tutti Che non vedo la riprovare a farlo Ovviamente Credo che si abbracciano tutti in gruppo Poi abbiamo Usa interazioni amichevoli con tutti Usa interazioni buffe con tutti E poi c'è questo gioco Gioca non svegliare il lama che dorme Io l'ho letto Famosissimo gioco Sì E' sempre fatto nella tua vita Mi hai incuriosito L'ho voluto mettere Perché sinceramente Non so che gioco sia E voglio vederlo Lo proveremo Lo proveremo Lo proveremo di sicuro Poi invece Cose da non fare Esattamente Non lottare con nessuno Ovviamente Mi sembra giusto Poi non bisogna Fare interazioni perfide con nessuno Quello che piace fare a Tina e Giulia Quindi loro due Non potranno mai stare in questo club Non bisogna pulire Perché viviamo la vita Capito Alla giornata Esatto Quindi non pulisci Capisco Non ripari E soprattutto Non rubi oggetti Vedi E' il club Anti Giulia Anti Giulia Anti Giulia E questo qua E' il club Non facciamo il raduno Perché ragazzi Lì sta andando a mettere Dei cartelloni Striscioni Qualsiasi cosa in giro Per la città Per pubblicizzare il suo club E nel prossimo episodio Faremo il raduno Che sarà a Windenburg Nella piazza Gazza È una piazza bellissima Piazza Gazza Penso che sì Credo si dica così Gazza Non lo so Vabbè Ha scelto una piazza Dove si possono fare tante cose Davvero carinissimo Sarà divertente Il bello di quel parco È che ci sono tantissime attività Sia per bambini Sia per adulti Quindi l'ho trovato Proprio perfettissimo Per il suo club Io spero solo Che non ci sarà Soltanto Beatrice Siamo lei Perché potrebbe nuocere Alla sua personalità Infatti è per quello Che adesso Oggi Lia Si dovrà muovere E fare una bella pubblicità Ok Allora Qua non c'è nulla Di particolare D'altronde Cioè Si stanno Soltanto Hai notato chi c'è Chi è Tu te le sei dimenticata È l'amica di Tina Che è la figlia Di quelli Che si tradiscono Nella serie di The Sims Ristoranti Infatti i club modelli Allora Io ti voglio dire una cosa È una criminale Io ti voglio dire una cosa È una criminale Hai presente che Nei film e nei telefilm Quando ci sono quelle famiglie Che stanno molto bene Benestanti Sì loro sembrano dei ricchi E che ci sono problemi Diciamo di Inciuccia amorosi Tra padre E madre Le ragazze Diventano un po' pazze Ecco A lei ha preso La mania di rubare Sì perché Allora Abbiamo visto che Nella serie di ristoranti I genitori erano chiaramente Con altre persone Sì Tradivano a vicenda Si stanno collegando Le due serie Per questa cosa Grazie a questa famiglia E lei E lei che è diventata Amica di Tina Nei club dei modelli È in realtà una criminale Esattamente Non mi sorprende Non lo sapevamo Cosa sta succedendo Guarda lui Io pensavo fosse un postino E invece È anche lui un criminale Grazie grazie Nella stanza di sopra C'è la roba particolare Perché fin qua Di te Vabbè Cos'è Non c'è nulla Non c'è niente di che Sopra Diciamo C'è diciamo La sala dei premi La sala degli oggetti Più belli che sono stati rubati E tutti i ladri Che fanno parte Di questo club Diciamo Di questa sede Possono ammirarli Per capire È proprio un lavoro Vedi Tu vieni pagato Per fare il criminale Guardate Queste sono cose In oro massiccio Oro massiccio Te lo farei notare Esattamente Qua abbiamo una bilancia Questa l'hanno rubata Da un museo Per pesare No Per pesare anche l'oro Che prendi Per capire quanto vale Posso farle una battuta Terribile Questa è la statua Dell'Oscar Di Leonardo Di Caprio Sei una brutta persona E le hanno rubata pure Basta 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 Qualche giorno dopo La prima volta Che si è staccato Dalla statua Anche quando dormiva Gliel'hanno rubata Esatto Sta ancora piangendo E la sta ancora cercando Sì poverino Lì potrebbe farsi Leonardo Di Caprio Come amico Riportando la statua Guarda che poi entra Come cavia Non mi dare questa idea Dopo Cracco Sarebbe la new entry Poi questo è un trofio Di musica prestigioso Qua hanno direttamente Esaleggiato una banca Sì Vabbè Sono criminali Non puoi pretendere Che facciano cose giuste Sono criminali Questi sono tutti piani Vedi Rubano in tutto il mondo Che è un po' storto The Sims È ovvio che pretendi Ok Hanno assegnato Il primo incarico Allia Deve rubare un oggetto Dentro una biblioteca Io non so Se lei accetterà di farlo Quindi guarda L'hai qua seduta Un po' sconvolta Vorrebbe ubriacarsi Per fare questo lavoro Più facilmente Secondo me Sta ridendo E cercando di essere simpatica Vedi che al momento È giocosa Perché lo sai Che lei Nonostante le difficoltà Cerca sempre di essere allegra Quindi sta cercando Di smorzare Questa volta non funzionerà Di smorzare la sua disperazione Insomma In ogni caso ragazzi Ci sarà da preparare Il festival Perché sì Ci sarà il festival Delle nostre cavie Sarà tra due settimane Quindi nel prossimo episodio Tutte le cavie Si alleneranno Nelle loro attività Per prepararsi Diciamo Alle loro esibizioni Alle loro esibizioni Quindi nel prossimo episodio Vedremo tutti Allenarsi Tutti prepararsi Ci sarà pure il raduno Di Lia Del suo club Perché dovrà riuscire A reclutare qualcuno Almeno una persona Altre abatrice Spero che sarà un bel raduno Altrimenti ci rimarrà Molto male Esattamente Non vedo l'ora Di preparare il festival Sarà una cosa fantastica Sono troppo felice Voglio fare anche il barbecue Con i salsicciosi Sono la cosa più bella Della mia vita E come sempre Prima di terminare il video Andiamo a salutare Gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Sod and Duff Giorgia Elena I love video games Gaming royale E fans Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Bene ragazzi Mi piace così Se vi città Sceltici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.